Alcune scene degli interni dei reali palazzi di Abdin e di Kubè che hanno visto le felici nozze di Re Farouk, compiute secondo il rito islamico. L'Egitto esultante ha salutato gli augusti sposi e le truppe del presidio sono sfilate dinanzi al palazzo Abdin dove il giovane sovrano ha assistito alla sfilata delle truppe che hanno voluto rendergli tributo di fede. Durante la sfilata i porti della città hanno sparato i rituali 101 colpi a salvo. La popolazione civile con cortei allegorici e con fantastiche luminarie ha espresso il suo giubilo al quale si è unito quello dei 60.000 italiani residenti in Egitto che vedono nel Re Farouk il continuatore dei rapporti di schietta amicizia che lega i due nobilissimi popoli mediterranei. La popolazione civile con cortei dell'espirazione Grazie a tutti